Grazie a tutti Grazie a tutti Vai Spero di sì perché lui ha cominciato questo mese a lavorare Questo qua serve qualcosa Allora se tu lo tieni scendi dritto Se lo molli e ti metti a girare perché non c'è nessun problema Ti caschi in fili per terra che la cosa è pronta Buona fortuna Ti siedi tranquillo e ti lascio andare Guarda c'è proprio un sistema Sì perché anche giù no Se ti va fuori il freno se per caso viene più veloce Ma com'è che si aziona praticamente? Tutto lì Ah sai questo Può salire Poi cazzoella Saquetti Questo è il suo Buon time Questa era la più facile Con la prossima Con la prossima Buon time E' quando l'abbiamo Sì, sembra di sì, c'è il nome di sì che venga, non so come ho detto, sì, sembra di sì, o no, io ho sentito, allora sì, io ho sentito un file, non so se hai provato, o no, ok. Oh 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 Questa lì è per favore? Sì. Oh, qualità me la faccio ancora? Beh, questa è spettacolare. Questa sarebbe quella più panoramica. Sì, anche qua. Perfetto. Eh sì, i primi dieci metri ti sembra un po' di cagarti addosso, poi dopo si può fare. Sono stato su un aereo, quelli a due porti. Sì, anche qua. 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 Sì, anche qua.